Ciao ragazzi! Oggi studiamo il ne partitivo. Il ne partitivo indica una quantità oppure parte di essa. Esempio, quanti caffè bevi? Da buona italiana ne bevo tre al giorno. Oppure, quanti soldi spendi? Ne spendo pochi investiti, abbastanza in spritz e pizza. Il ne partitivo indica anche una quantità zero, il niente. Vuoi una fetta di torta? No, non ne voglio, grazie. Alt, ragazzi, questo esempio è brutto. Non si rifiuta mai una fetta di torta. Oppure, quante multe hai preso con il motorino? Io non ne ho presa nessuna. Questa è la versione ufficiale per la mamma. In pratica, ne ho prese due. Ciao mamma! Ciao ragazzi!